I commercianti di San Laurentino hanno più volte chiesto un incontro con il sindaco, un incontro che non c'è mai stato, quindi oggi vi siete presentati direttamente a Palazzo Cavallo. Sì, io personalmente circa tre mesi fa ho chiesto un appuntamento, lei un mesetto fa, la prassi ci dicono che quella di lasciare il numero di telefono, che poi ci richiameranno per darci l'appuntamento, ma non abbiamo mai risentito nessuno. Stamattina siamo arrivati, ci hanno detto che il sindaco non era in sede, invece poi è passata altra gente che aveva appuntamento con il sindaco, ci hanno fatto parlare con la segretaria, ci ha richiesto il numero di telefono. Che sono le problematiche che volete segnalare al sindaco? In generale è uno stato di abbandono totale della zona di via San Laurentino e via Cavour, a parte la questione del museo che abbiamo sollevato più volte, non passano gli spazzini, c'è un degrado totale anche della strada, parcheggi ovunque di auto, quindi insomma una serie di cose. Non ultima che è una delle cose che è capitata giorni fa, alcuni dei commercianti di San Laurentino hanno fatto richiesta di occupare l'esterno della propria attività per far funzionare un po' meglio la propria attività, c'è stata negata. Abbiamo visto invece nella parte bassa di via Cavour fiorire una pedana che ostruisce tra l'altro in mezzo alla strada, quindi insomma vogliamo sapere, avere almeno spiegazioni di alcune cose. Sentite un po' i commercianti di Serie B? Ma sì, sì, anche sì, voglio dire siamo tutti uguali no? Quindi dove devono fare qualcosa per forza. I commercianti della zona di San Laurentino alla fine della mattinata non sono riusciti ad incontrare il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, come fanno sapere tramite social network. Grazie. Grazie.